Musica Più risorse alla sanità toscana, ma è polemica sul nuovo manager che dovrà ridurre le liste d'attesa. Limiti di spesa più alti per i lavori sulle case ERP, il sì compatto del Consiglio regionale. Di sesto idrogeologico salta il documento operativo per il 2023. Fratelli d'Italia attacca il PD, rilancia con una mozione. Fine settimana di degustazioni a Monte Pollonico, sabato e domenica, la due giorni dedicata al Vinsanto. Fa discutere il nuovo pacchetto di misure approvato dalla Giunta regionale toscana in materia di sanità. Le delibere, varate nei giorni scorsi, intervengono su vari fronti, dal problema della carenza di medici di base, con la previsione per alcune aree e su base volontaria dell'aumento del massimale di assistiti, all'attivazione di un numero verde europeo per gestire le richieste non urgenti. Ma a dividere il Consiglio regionale è il provvedimento per l'abbattimento delle liste d'attesa e in particolare la nomina di un responsabile ad hoc per ogni azienda sanitaria. Abbiamo deciso di investire risorse e di darci un metodo per abbattere le liste d'attesa, non solo, anche nella governance. Ogni azienda avrà un manager responsabile, che potrà dire che queste risorse possono essere attivate per abbattere la lista d'attesa nelle visite specialistiche ambulatoriali di oculistica, che appaiono particolarmente, dico a caso naturalmente, lunghe, rispetto a quella diagnostica, per cui certe analisi che vengono richieste in quello o in quell'altro settore appaiono altrettanto lunghe. Quindi risorse per poter attivare medici e diagnostica ad abbattere le liste d'attesa è una sorta di figura manageriale di coordinamento che possa orientare queste risorse in quel settore o in quell'altro perché complessivamente vi sia una risposta più veloce ai bisogni dei cittadini. Una figura, quella del manager, che secondo l'opposizione non è la risposta giusta ai problemi della sanità toscana. Si va a prendere una nuova figura che sarà il supervisore delle liste d'attesa, che sarà soltanto la persona al quale è atterrata la giacca per dire qual è la posizione, qual è la situazione e come si può rimediare. Credo che non sia la soluzione. La soluzione è quella che noi abbiamo ascoltato perché siamo andati sul territorio, siamo andati in tutti gli ospedali e tutti ci hanno chiesto i posti letto per cercare prima anche sul territorio fare delle postazioni per togliere il peso ai pronto soccorso perché ci sono degli interventi che effettivamente si possono fare altrove e non dentro il pronto soccorso ma soprattutto per far uscire poi dopo quelli che sono stati visitati e ai quali viene fatta una diagnosi i posti letto. Questi non ci sono, le difficoltà sono nel far ritornare a casa i pazienti dai reparti per lasciare liberi i posti da quelli che entrano invece nel pronto soccorso. Un pacchetto, quello approvato nei giorni scorsi, che secondo Fratelli d'Italia non è sufficiente a salvare l'operato dell'assessore alla sanità Simone Bezzini. La nostra valutazione è che Bezzini dovrebbe dimettersi, dovrebbe prendere atto di una situazione drammatica che ogni giorno è sconvolta da una nuova vicenda. L'assessore Bezzini non solo non risolve i casi di emergenza e urgenza, non solo non risolve le problematiche legate ai medici, non solo non riesce a dare risposta rispetto alle liste d'attesa che hanno, voglio dire, i riscontri che abbiamo visto, ovvero le liste chiuse, le liste bloccate, eccetera, eccetera, ma non riesce nemmeno a esercitare una funzione di controllo rispetto agli scandali che ci sono in ambito sanitario. Noi lo denunciamo da anni, da mesi, il sottoscritto. Le carriere dei medici sono troppo spesso, in qualche modo, intrecciate con le carriere dei politici e adesso le indagini che fanno la magistratura mettono allo scoperto quello che noi diciamo. Noi pensiamo che Bezzini abbia fallito, da tutti i punti di vista, e che debba fare un passo indietro. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la modifica della legge che fissa le soglie di costo degli interventi sugli edifici di edilizia residenziale pubblica, un provvedimento indispensabile a seguito dell'aumento dell'inflazione per evitare il blocco delle ristrutturazioni. Con questa legge diciamo che la Giunta, qualora vi è un aumento dei prezzi, può usare come limite massimo il preziario regionale che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo una volta l'anno ma anche all'interno dell'anno e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP e che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. Una proposta che ha incassato il parere favorevole di tutte le forze politiche non senza qualche perplessità da parte della minoranza. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che lo ricordiamo come è stato denunciato anche da Sunni a CGL a gennaio sono moltissimi in pessime condizioni e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie. Quindi è assolutamente strumentale questo modo di fare. Abbiamo sicuramente votato a favore perché è l'unica soluzione in questo momento per riuscire a dare a tante famiglie bisognose degli appartamenti. Sì, siamo sostanzialmente favorevoli dobbiamo anche lì comunque eccepire alcune cose in quanto in commissione spesso abbiamo parlato delle case popolari di come il danaro potrebbe essere riciclato vendendo determinati alloggi per poter mettere a regime altri che magari sono fermi soltanto perché devono essere rimessi in sesto. Il Consiglio regionale si confronta e si divide sul tema del dissesto idrogeologico e in particolare sul mancato aggiornamento per il 2023 del documento operativo per la difesa del suolo il DOZ a innescare la miccia una interrogazione a risposta immediata presentata da Fratelli d'Italia a cui è seguita una mozione del Partito Democratico. La risposta dell'assessore Moni è stata parziale ma ci ha dato molti numeri che hanno certificato due cose. Il primo è che la regione toscana nel 2023 non è riuscita a fare il DOZ cioè il documento operativo di difesa del suolo quello cioè all'interno del quale vanno tutte le opere di mitigazione idraulica che è di lotta al dissesto idrogeologico ma la Giunta sta procedendo per stralci via via che riesce a trovare un po' di risorse come l'ultimo stralcio del febbraio 2023 in relazione ai fondi del PNRR. L'altra cosa e cioè la Giunta non ha mandato come tutti gli anni alla fine del 2022 la lettera agli enti locali proprio perché le risorse non sono troppo sufficienti per raccogliere le indicazioni da parte del territorio sui provvedimenti e sugli interventi sui progetti che reputano assolutamente necessari per mettere in sicurezza il territorio. Da questo punto di vista nella collegata mozione del PD abbiamo ritenuto opportuno di votare a favore perché chiede più risorse particolare che lo faccia la forza di maggioranza rivolta alla Giunta ma questo non toglie che il problema esista perché va affrontato il dissesto idrogeologico di una regione che ha circa l'80% di superficie montana e collinare. E proprio sul DOZ il PD ha chiesto alla Giunta un impegno concreto. Sappiamo bene come la difesa del suolo sia un elemento qualificante e fondamentale delle politiche per il territorio. Noi abbiamo uno strumento prezioso che è il cosiddetto DOZ il documento operativo per la difesa del suolo che ogni anno raccoglie i progetti che provengano non solo i progetti della regione stessa non solo i progetti dei consorsi di bonifica ma anche i progetti delle province dei comuni e soprattutto dei comuni più piccoli che spesso hanno territori grandi talvolta molto grandi dove si verificano situazioni di degrado di frane, di cedimenti del territorio. Questi comuni hanno l'unica opportunità di vedere finanziato i propri progetti attraverso questo strumento che deve essere annualmente sostenuto e alimentato. Quindi noi chiediamo che anche per il 2023 e per gli anni prossimi la regione mantenga quel livello di investimenti sul versante della difesa del suolo che hanno consentito fino ad oggi appunto di finanziare e sostenere progetti ed interventi soprattutto dei comuni più piccoli. Una manifestazione tutta dedicata al vinsanto che fin dal titolo vuole essere un invito a gustare il celebre passito toscano. Si tratta di Logradireste un goccio di vinsanto l'appuntamento organizzato da Comune Proloco che si terrà sabato 15, domenica 16 aprile a Monte Follonico località nel comune di Torrita di Siena. La Toscana è terra di arte, di storia, di cultura, di bellezza, di buon cibo, di ottimo vino e in questo caso direi di ottimo vinsanto. Ringrazio l'amministrazione comunale di Torrita di Siena perché questo evento rappresenta un po' anche quella è la nostra idea di Toscana. Monte Follonico il 15 e il 16 di aprile sarà un po' un luogo in cui raccontare la qualità delle nostre produzioni che sono frutto del lavoro dell'uomo perché senza questo lavoro quotidiano tutto questo non sarebbe possibile. È un modo per portare a conoscere quanta qualità, quanta bontà, quanta bellezza c'è nei nostri territori. Una manifestazione ormai consolidata grazie al lavoro di Proloco Monte Follonico. Proloco di resto in Guccio di Vinsanto è giunto alla diciattesima edizione ha saltato solamente per causa Covid le due edizioni precedenti a questa ma rinnova l'appuntamento con la degustazione di Vinsanto e con la visita al borgo di Monte Follonico che è Bandiera Arancione ed è un piccolo borgo arroccato su un crinale che fra la Val d'Orce e la Val di Chiana quindi con degli scorci politaggistici è inutile dirlo fantastici e che però al suo interno ha dei custodi di questo di cuore che è il Vinsanto che da anni e anni si tramanda alla tradizione e in questo periodo d'aprile del 2023 ci sarà questa gara con la segreazione di un premio molto ambito perché appunto 18 edizioni quest'anno hanno 66 i vinsanti in gara quindi molto sentito e vale la pena passare a Monte Follonico il 15 e il 16 aprile perché sarà una bellissima anche un'esposizione di agricoltori e produttori locali di filiera porta quindi che impreziosiranno l'evento del Vinsanto Per conoscere l'esito del concorso si dovrà però attendere la premiazione in programma il prossimo fine settimana a Monte Follonico Noi raccogliamo vinsanti solo amatoriali sono vinsanti che vengono fatti praticamente sono vinsanti casalinghi che singoli produttori ci inviano oppure si vanno noi a prendere direttamente nel luogo di produzione è stata stabilita una giuria quest'anno di sei elementi costituita da un giudice dell'AIS della FISAR un rappresentante del comune produttore di vinsanti della zona si sono riuniti e hanno proceduto alla degustazione di questi 66 vinsanti amatoriali diciamo la classifica mi è stata consegnata ieri dal comune di Torrita di Siena siccome i vinsanti vengono numerati vengono numerati sul collo e nascosta l'etichetta la giuria non sa a chi appartengono questi vinsanti Per questa edizione è tutto potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it www.consiglio.regione.it